Avete presente la grande leggenda di Dragon Ball AF, il Dragon Ball After Future? Ne esistono ben due. Il primo l'abbiamo già discusso effettivamente su questo canale. Per quanto riguarda il secondo, che forse è più importante a livello di storia perché è stato scritto proprio da Toyotaro, colui che è finito per disegnare Dragon Ball Super, l'abbiamo solo accennato solo ogni tanto su questo canale. Inizieremo quindi da oggi una serie di una decina di episodi per andare a parlare proprio della storia completa di Dragon Ball AF scritta da Toy Ball, pseudonimo di Toyotaro. Benvenuti ragazzi su Dragon Ball AF con il primo episodio della serie. Fatemi sapere ovviamente se questa serie vi interessa, se vi piace e scrivete nei commenti se vi interessa appunto vedere i prossimi episodi. Noi ovviamente cercheremo in tutti i modi di portare avanti questa serie fino alla conclusione, fino a dove effettivamente poi Toyotaro è arrivato, quindi fino al volume 4. Ci saranno una decina di episodi, secondo me una storia molto interessante e alcuni addirittura ragazzi dicono che questa storia abbia ispirato una certa saga di Dragon Ball Super. Vediamo se azzeccate voi di quale saga stiamo parlando nei commenti. Detto questo io direi che possiamo cominciare e direi di iniziare subito dall'inizio di questa storia. Tutto parte, come al solito direte voi, da queste storie fan made un po' vecchiotte dalla fine di Dragon Ball GT. E in realtà no, questa volta si parte da una parte importante di Dragon Ball Z dopo la sconfitta di Freezer da parte di Goku nel loro primo combattimento in cui Goku per la prima volta utilizza il Super Saiyan. Qui vediamo che Freezer è stato completamente distrutto e il suo corpo viene recuperato da Re Cold, cosa che insomma tutti noi conosciamo e non era un fan manga che ci doveva dire questa cosa qui. Freezer è stato completamente distrutto e viene messo in una piccolissima cella in cui viene ricostruito completamente. Re Cold è veramente scioccato, è scioccato anche dal fatto che sia stato un Saiyan effettivamente a fargli così tanto del male e a quanto pare c'è una figura misteriosa insieme a lui. Difatti Freezer si lamenta del dolore non solo con suo padre ma anche con quella che sembra essere sua madre. Vediamo che la figura misteriosa ha le sembianze di un vero e proprio Kaioshin, uno delle divinità appunto di Dragon Ball. Calcolate quindi che questo manga è stato scritto prima di Dragon Ball Super e fino a quel momento lì il Kaioshin era praticamente la figura più importante nella gerarchia divina di Dragon Ball. A quanto pare il nostro caro Freezer è proprio figlio in qualche modo di una Kaioshin, una Kaioshin che per qualche motivo ha deciso di fare un figlio con Re Cold. In realtà non sembra essere l'unico figlio, difatti vediamo che la Kaioshin si allontana. Vediamo infatti anche Cooler, che lì anche lui chiama questa misteriosa Kaioshin madre, ma a quanto pare lei non ha più alcun interesse con loro. A quanto pare infatti, visto che Freezer non è il più forte dell'universo, non ha neanche più senso chiamarlo suo figlio, non ha veramente più importanza per lei e anzi sembra essere interessata proprio all'uomo che l'ha sconfitto, ovvero Son Goku, e quindi si fa preparare una navicella. Copriamo finalmente il nome di questa Kaioshin, si chiama Laila, e a quanto pare vuole raggiungere e trovare Son Goku prima che lo faccia Re Cold. Ancora non sappiamo il motivo, ma la voce narrante ci fa intuire che in qualche modo questa storia avrà a che fare a un certo punto con il pianeta Terra e un pericolo si sta avvicinando nel nostro amato pianeta. La voce narrante nel frattempo ci ricapitola quello che è successo fino a questo momento. Ricapitola infatti quello che abbiamo visto in Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Come sappiamo infatti Goku ha finalmente abbandonato il pianeta Terra insieme al Dragon Sherron, ha abbandonato il mondo dei vivi, di fatto, quindi ormai la Terra non ha né Goku né le sfere del drago, ma in cambio a quanto pare c'è la pace nel mondo. Il primo personaggio che rivediamo in questa saga ragazzi è Gohan. Gohan lavora alla Orange Star University e a quanto pare è diventato finalmente un professore. Ha una vita molto molto indaffarata e deve prepararsi per una lezione. Una lezione di cui in realtà si era dimenticato. Questo serve solo a farci capire di fatto la vita sempre più frenetica che a quanto pare ha adottato Son Gohan da quando suo padre non c'è più e da quando la Terra di fatto non ha più bisogno di essere difesa da nessuno. Vediamo che in questo stesso istituto c'è anche Goten che ha dei amici e a quanto pare le elezioni vengono interrotte per un richiamo di emergenza. A quanto pare c'è una rapina lì vicino a K-Bird Town e quindi in poche parole il preside sembra stia dando l'allarme. Comunque trova una scusa per uscire dalla lezione e decide di trasformarsi. Attenzione però, non in Super Saiyan come molti di voi credono. In realtà Goten utilizza la stessa tuta praticamente che in passato ha utilizzato Gohan. O comunque una tuta molto molto simile per trasformarsi nel Great Saiyan Man numero 3. Questa cosa è estremamente interessante perché? Perché poi noi esattamente questa cosa qui l'abbiamo vista in un film molto recente il più recente in assoluto di Dragon Ball Super per me il miglior film in assoluto di Dragon Ball lo so che questa cosa triggererà moltissimi ovvero Dragon Ball Super Super Hero in cui Goten e Trunks hanno esattamente queste tutte qua. Se pensiamo che la persona che ha inventato questo fan manga è finita poi per lavorare proprio per Dragon Ball Super beh, questa cosa veramente mette un po' i brividi anche a livello di romanticismo. Comunque Goten utilizza questo costume e si dirige sul luogo del misfatto. Goten arriva proprio sul punto della rapina ed è proprio la Pilaf Gang che sta commettendo questa rapina. Addirittura sembra che abbiano preso un ostaggio con cui stanno minacciando i poliziotti. Arriva quindi sul posto Goten che inizia a far paura ai nostri criminali ma in realtà l'attenzione di tutto il pubblico viene catturata da un altro personaggio un altro eroe a quanto pare chiamato Papaya Man. E chi è questo Papaya Man? Ragazzi, noi lo sappiamo, ovviamente il pubblico non lo sa ma è chiaramente Ub che non solo ha una tuta con cui nasconde la sua identità segreta ma è anche accompagnato tra nuola Speedy che a quanto pare ha ereditato da Son Goku. Papaya Man sembra veramente godere dei favori della folla e infatti in un man che non si dica riesce a sconfiggere la gang veramente con un solo colpo. Vediamo quindi che Goten non se la passa benissimo vive un pochettino all'ombra di Ub e scopriamo anche che nel mondo di Dragon Ball esiste una classifica degli eroi più amati. Ub a quanto pare, anzi Papaya Man, ha superato Mr. Satan infatti Papaya Man è l'eroe più famoso e apprezzato del mondo. Mr. Satan è al secondo posto al terzo posto abbiamo il Great Saiyaman originale quindi parliamo di Gohan mentre invece al quarto posto abbiamo Goten il Great Saiyaman numero 2. A quanto pare quindi Goten non se la passa molto bene. da quello che vediamo è completamente all'ombra di Ub e scopriamo che nel mondo di Dragon Ball esiste una classifica degli eroi più apprezzati in assoluto. Ub, anzi Papaya Man, ha ormai superato Mr. Satan e si trova al primo posto nella classifica di apprezzamento. Mr. Satan si trova al secondo posto al terzo posto abbiamo il Great Saiyaman originale perché parole Gohan e al quarto posto invece abbiamo Great Saiyaman numero 2. ricordatevi che Goten è il Great Saiyaman numero 3 quindi è logico pensare che il Great Saiyaman numero 2 sia proprio Trunks. Scopriamo nella pagina successiva infatti che il nostro povero Goten occupa la centesima posizione come Great Saiyaman numero 3. Ovviamente questa cosa lo fa totalmente disperare però vi assicuro che c'è altro di cui Goten dovrà preoccuparsi di lì a poco. Vediamo infatti che nelle vicinanze sono atterrate due capsule e lo stesso tipo delle capsule con cui per esempio Vegeta e Nappa sono arrivate sulla Terra per la primissima volta. Queste capsule però sono vuote e i suoi ospiti si rivelano subito. Le ritroviamo quindi Layla quella che era di fatto la madre di Freezer insieme a un nuovo personaggio. Questo personaggio si rivela essere Zaiko dichiarandosi l'erede di suo padre Son Goku il guerriero più forte dell'universo. Layla è scesa sulla Terra insieme a suo figlio e a quanto pare anche al figlio di Goku proprio per reclamare il suo posto reclamare il posto da più forte di tutto l'universo. E proprio appena arrivano il primo bersaglio che incontrano Saikor e sua madre è il povero Goten. Saikor individua il Saiyan e decide di presentarsi. A quanto pare Layla conosce Goten e quindi la presentazione tra i due fratelli sembra essere molto molto vicina. Ma il video di oggi ragazzi termina qui e noi ci vediamo tra un paio di giorni con la seconda parte. Se volete la seconda parte ovviamente iscrivetevi al canale così da non perderla e lasciate un like per farci sapere se questo contenuto vi è piaciuto e se dobbiamo continuare la serie. Ciao ragazzi!